Ulfila è stato un personaggio storico di grande rilievo per la storia del cristianesimo e delle popolazioni germaniche, nato da genitori cristiani provenienti dalla Cappadocia. Fu catturato dai goti quando era bambino e crebbe tra loro, imparando la loro lingua e la loro cultura. Consacrato vescovo nel 341 da Eusebio di Nicomedia, un esponente dell'arianesimo, Ulfila si dedicò alla missione di evangelizzare i goti, che allora vivevano a nord del Danubio, in territorio visigoto. La sua opera fu ostacolata dal rea Tanarico, che scatenò una persecuzione contro i goti cristiani, accusandoli di tradimento verso gli dei tradizionali. Ulfila e i suoi seguaci dovettero rifugiarsi in Messia, una provincia romana a sud del Danubio, dove ottennero il permesso di stabilirsi dall'imperatore Costanzo II, anche egli favorevole all'arianesimo. In questa regione, Ulfila continuò la sua opera di conversione e di organizzazione della chiesa gotica, che si distingueva da quella romana per la sua dottrina e per la sua liturgia. Ulfila è noto soprattutto per aver tradotto la Bibbia dal greco al gotico antico, creando appositamente un alfabeto basato sulle lettere greche e latine, con l'aggiunta di alcuni segni runici. La sua traduzione, che precedette di alcuni decenni la vulgata di San Girolamo, è la più antica testimonianza scritta di una lingua germanica e una fonte preziosa per lo studio della lingua e della cultura dei goti. Ulfila tradusse quasi tutti i libri della Bibbia, tranne i libri dei re, che riteneva troppo bellicosi e inadatti a un popolo guerriero come i goti. La sua versione biblica rifletteva anche la sua adesione all'arianesimo, una corrente teologica che negava la consustanzialità tra il padre e il figlio e che fu condannata come eretica, dal concilio di Nicea nel 325. Ulfila fu un uomo di grande cultura e di profonda fede, che seppe adattare il messaggio cristiano alle esigenze e alle caratteristiche dei goti, senza rinunciare alla sua identità romana. Fu anche un diplomatico e un politico, che intervenne in diverse occasioni nelle vicende dell'impero romano e dei regni barbari. Morì a Costantinopoli nel 388, durante un concilio ariano, lasciando un'eredità spirituale e culturale che influenzò le generazioni successive di goti e di altri popoli germanici.